buongiorno buongiorno amici mi ha chiesto un ragazzo se stavo ancora con l'onore purtroppo sì non si è ancora tolto dalla minchia cosa dobbiamo fare è così ragazzi è così cosa dobbiamo fare mamma mia questi sono i disgrazi della vita che ti arrivano tra coppia e coppia ma fa pure te e lui pure lui no questa domanda cagata perché se fosse nel gruppo telegram no mi fai parlare no pure lui ascolta se fosse nel gruppo telegram vedrebbe che io ci sono no no e allora siamo qua ragazzi siamo qua ho qualche progetto in mente ma per allora vi dico la verità ragazzi proprio la sincera schietta verità sto lavorando tantissimo sto lavorando tantissimo mi rilasso il pomeriggio faccio una partita e poi sempre meno perché veramente mi sto dando tutto per il lavoro ho preso dei bel regalo di natale anche alla famiglia poi li vedrete pure voi insomma mi sto dando tutto al lavoro adesso anche perché sia sotto natale una cosa un'altra qualche soldino in più mi fa comodo e via e quindi così lavoro tantissimo la notte sono stanco e quindi le dirette twitch ormai si ci sono sempre ma invece che durare tre quattro ore ne durano due adesso non lo so ragazzi se è solo un periodo o cosa però stavo pensando nella mia testa stavo pensando a una cosa a tornare di qua con quello che facevo di là praticamente le dirette le cose fare tutte su questo canale ma con attenzione attenzione ma con l'aspettativa di aprire un nuovo canale e di mandarmi le persone lì sempre su questa piattaforma visto che questo canale non posso monetizzarlo mi piacerebbe riuscire ad aprire un canale nuovo quindi faremo le dirette qui magari salvatevi video che vi interessa un po' ce li ho anche io salvati se dovessero se dovessero e sull'altro invece ci punto un po' di più cercherò di portare argomenti più tranquilli è una cosa proprio diversa l'altro canale è è solo un'idea per adesso perché veramente sto canale qui se se tante cose da dire ma c'è troppa censura ragazzi se trovo cioè non riesco a parlare non ce la faccio tante volte mi sono messo a registrare dei video dico una parola in più e no questo non lo posso postare e cancella video cioè non si può parlare ragazzi di queste cose qui non si può parlare è così e basta non si riesce non si riesce a dire niente vedo anche un mio amico che voleva parlare di covid di queste cose qui che stava cercando una piattaforma più libera per parlare fare brigare e non c'è non c'è perché tutte comunque 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 ti fanno problemi censure cose non c'è ragazzi non c'è non c'è io non so come fare non lo so non sono tv di quelle lì tipo ieri robe varie che sanno tutte le regole a me la dito per non essere bannati io non le so e vabbè ce la rischiamo che cazzo dobbiamo fare tanto alla fine del canale non è monetizzabile non mi mantiene quindi giochiamocela così a sto punto ragazzi io direi di far così non so se siete d'accordo io ho tanti video me li sono salvati non tutti gli ultimi cose varie non li ho salvati però ecco gran parte delle cose diciamola così quindi vediamo vediamo adesso cosa ci può fare cerchiamo di di tenere questo è il metallo di tenere il ruolo vediamo vediamo